andrea manchi solo tu quindi c'è c'è marco c'è dario manchi solo tu sticca pure tu qua ma Marco c'è io non lo sento Marco c'è visto c'è Marco povera bimba è l'unica senza uvini ci sono ci sono passati tutti tranquilla hai visto quello che ho adesso l'avete visto ragazzi che bellino quello di fantasmina vabbè andrea è uno scioppone di merda dai la maschera dell'ombra sta dicendo sì infatti allora allora si insieme a qualcuno ad esempio ho dei tiranni brevissimo e ovviamente siamo anche in live cosa giocherete voi tutto non lo so il primo fa ho provato una squadra che è interessante silenzio sono crashato no ma non ci senti non mi senti no non c'era non sentivo nessuno pensavo come è possibile che cos'è quella col corpetto da culo ok caitlin ma quindi siamo tutti contro uno ma sì veramente sì facciamogli il culo di qua ma non dovete eliminare il primo avete fottuto il coso stranzi c'è il programma quello là che mi ha dato il daniele di effetti che cazzo si chiude che lo stranzo mi ha fottuto malfare che si chiude con ctrl t lo chiudi con ctrl t e invece io faccio questa e poi il mio recetto un altro archipugio vado davanti archipugio no non me lo fa chiudere non me lo fa ok boh è buggato ce l'ho buggato ce l'ho buggato sai dan fa giro c'è buggato e allora devi andare nella schermata del windows e chiuderlo direttamente da là vediamo un po se lo riamo vediamo cosa succede beh un aiuto nico bella merda anche a me me l'ha dato leona andiamo un po facciamo una cosa quanto devo aspettare Dario è lasciato la partita what Dario è crashato io ti avvio il gioco intanto vabbè ancora in partita quindi in teoria è soltanto crashato vabbè in partita non lo butta fuori fino a che non arriviamo dai gol sai ah perchè buttà fuori prima o poi certo il dango calo di zuccheri di margo che lui fa schifo hanno tolti tutti gli eventi oh finalmente adesso ho sistemato bene una chedrin per la mia collezione di chedrin privata grazie uno sgrassatin mmm sgrassatin mmm sgrassatin tre quattro cinque ne mancano due eh sai chi è morto ha solo due vg e quindi ma mica proprio due gli dai butti proprio ok questo è il team che dobbiamo fare no Andrea basta sempre così incominci ciao bimba ciao ciao ti ho fatto il culo ma non sto capendo perchè poppie è blu perchè poppie è blu eh io ti ho fatto il culo mi dispiace oh mattardo sei riconnesso lei che vi disintegrava l'ha detto ragazzi e io metto celestiali teca la mangia no 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 non ne voglio vedere più celestiali era mistico e celestiale non ne voglio vedere più la sfida cioè prima prima uno stronzo ha fatto quattro mistici e quattro celestiali era imbattibile cioè si lava ogni cinque fottuti secondi no Dario nooo ma chissà come mai crash perchè da prima che crashava però l'ho visto muoversi meglio ora che dopo su Apex si in effetti per voglio per poi è meglio così ma vonna sto Dario sto del merda e one shot ma io sono ma è il mio lavoro short time se no faccio questo non esisto Mario sta sparando c'è Dario che sta parlando su discord mi sa guardate mi piace che lo chiamo Mario signore che ti ne fa? ti disintegro ti disintegro ti disintegro vabbè in realtà ce ne sei già ce l'ho che dice Mario? che dice Mario? non so andiamo che la la viene venendo Mario sei ora zico ok sta venendo Mario tornato ciao Mario ciao Mario ti disintegro che padre ho il tirani e lo stronzo che mi ha fottuto mal te ne è andato quello dello stronzo ma il mio giallo è un buon anno ma qualcuno lagga leggermente quello è Dario ma fuma ma come fuma ma che palle quell'illusion che si spostano in due secondi bicosi 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 uuh asci uù vedete oh adio quel masserini nooo no no il fatto da il pigiamen sbagliando in questo video Daniela mi stavi facendo lì ho detto che sta facendo Daniele che stai vedendo cosa fai? no, non farlo davanti ai miei occhi sei tipo Mufasa come Mufasa con Scar lunga vita al re e ti prendi ascia entra in campo Gohan anzi no, Goku io adesso Goku è Vegeta sempre una cosa dici Marco sono salito al 4 non è che il team giusto c'è un team a cazzo di cazzo cazzo perchè sono salito al 5 non lo so, sbagliato però adesso Asce che tipo questa la perdo subito, non riesco a prendere i miei champ sono contro Capitan Formborn no, guardate, ciao bastardo tu sei sempre 19 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 ma ma perché? per quanto hai Starius? ma perché? ma che ho fatto? ma nonno, duecenti di merda sono per ogni morte che faccio mi bevo un goccino di vino oh sì mi sembra giusto tu sei sempre 20 secondi bevi un bicchiere di birra e sei morta no, vino, vino per ogni morte che faccio un bicchierino di vino si, voglio vederti imbriaca dopo il primo mezzo bicchiere sei imbriaca ma quindi Dario stai facendo di nuovo poppy si, lui fa sempre poppy uomo poppy guarda, io ho capito che non devo giocare con voi devo giocare da sola almeno sono sicuro di vincere ma chi è questo? oh sì guarda st'altro infame vai Goku un grandissimo con ultraistinto insieme a che cazzo è quello? quello sarà il nuovo Gohan per il momento vai Gohan guarda, lo aveva accecato non doveva prenderci vincendo Super Silambula attenzione mamma mia mi ha permesso di aver chiuso il livello sopra bastardo il capo di Rabadon questa me la devi spiegare un po' e fa male la spiegazione più brutta che abbiamo detto perché fa male oddio male male sta a morire l'ho menta da tutti l'anno 90 ma io sono in serie di vittorie ah 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 ma perché andrei in cima ragazzi? che cazzo sta succedendo? che sta succedendo? che sta succedendo? massacate massacate il mister calmo e c'ha Jace Darius ecco che sta succedendo vabbè Jace Darius lui ogni partita se ne fa quindi non è una novità Jace one shot Darius one shot che cazzo che vuoi dire? è vero Jace Darius no io entro io voglio sentire la sua cosa voglio sentire le sue cose aspetta muto a voi silenzio e silenzio ma andrea ma sempre Jace su Rending Team sempre ma andrea anche la 15-18 che vuoi ma non ho capito però questo non è giusto questo non lo giustifica infatti adesso ho tre aiuti di Nico mi faccio un personaggio in 3 come niente tipo vola come cazzo vuoi avere tre aiuti di Nico? io non ce l'ho vabbè cosa cazzo mi hanno dato forza della natura è pure a me non è vero stavo scherzando volevo vedere quello che dicevi ne ho solo uno fate schifo in ogni caso no dai ne ho solo uno no ho sbagliato ho messo scende Sosizia a posto di Giovanna Never vai Marco la resa dei conti bastardo vai metti questi infiltrati pure tu orca bravissimo quel Goku vai Goku un'altra 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 un'anima ti ho distrutto però io ti ho massacrato meglio così ok un'altro goccino Daniele non hai ancora vinto 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 Suga ma Suga che lo sapevo già che non è più shottato Suga è un coglione incredibile entro in campo gol 2 Suga ecco vediamo se cazzo combini di Stronzo ma ti ha dato dello stronzo ma non cazzo di me Dottosuca Marfaital 2 spero pure giocare oh mio dio mi sto attaccando sotto come scusa ma dove sei scusa? allora ecco ecco ah ok Dario devo scusa la sfida Dario la scusa Dario la scusa in personaggio al 4 come? dai come dica Dario la sfida Dario la sfida ma io ho giocato e quindi fa un culo ma i poppy e ti lo metti io dici che vinco io è un personaggio all'uno dai attenzione poppy muori ma come si fa? quella sopravvive sempre con l'apocalisse dai oh è morta dai mi avvii hai vinto hai vinto ma non l'ho disintegrato l'ho disintegrato il più scarso sono io pure a Dario ho disintegrato l'ho massacrato a questo Dario basta Dario piangi Dario sono andato a che dobbiamo fare questa non so chi di voi che adombordi ma l'ho impurato bene bene io sono a posto io sto vincendo easy pisi le monstri devo battere il Mastro Andrea devo battere il Mastro Andrea Mastro lino sgassatore un attacco e fa furor lol ma immagina il suo potere mi manca Sona ma che mi ha fottuto Sona devo vedere Andrea che cosa di personaggi ha? il momento della verità bastardo no bimba quell'oggetto non lo devi per forza mettere vai sgrasso Dino lancia la merda bravissimo che merda che ha lanciato madonna che attacchi infatti non ti da niente non ti da neanche vita non ti da niente no no si godo vai gogulteristitto lanci la merda ma no ma no ma come ho vinto il Mastro PALLE le a un culo bimba in quel momento ho distrutto Andrea però è sempre più avanti di me ma che palla mi chiamo Mordekazzer no Mordekaze non so io cosa prendere ma no no dai lasciatemela MOOOOOO no 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 ok ancora tutto da vedere ancora tutto da vedere ancora è tutto da vedere mollatemi porco il cazzo porco il cazzo dai 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 ma già la vita e vai la canal 2 per la mia collezione di ragam privata non posso dirlo cosa non mi è praticamente vabbè dai può capitare ma ok ho recuperato tutto ma vai a cagare mi è andata male ma io mi fa male e poi invece ma come gervana al 3 che vuol dire gervana al 3 lo voglio io no please don't kill me vabbè io c'ho gugu e vegeta oltre street e super siamo spaccato tutti andrea mi sa che questa partita andrea ci saluta sono 8 vittori di fila ragazzi dai tranquillo mi piace stato tranquillo pezzo di merda e io prendo un'altra fiora per la mia collezione di fiori privata come perché sto provando una comp praticamente di una app che a quanto pare funziona vergogna come vergogna c'è la per garantita dalla rio te lo ho detto tutti prova la eppure tuo fratello il primo è stato poi daniele poi pure tutti tutti quelli ma davide tutti lo so lo so bastardo no hai grabato a vegeta ma io li vedi i miei oggetti in panchino bravissimo goku mamma mia quel goku sei vegeta attacca ma io sono livello 5 e poi siete livello 6 ma che problemi c'avete raga io sono a livello 6 di realtà madonna quel vecchio io sono a livello 5 5 è pure io quel goku il trascinto ti fa sognare no no goku vai ulta madonna goku hai rotto il cazzo muori in strozzo goku nooo ho sconfitto anche domenico fuga nooo ho sconfitto goku ho sconfitto goku e vegeta ah non è una cosa bella adesso il mondo è rovina non ho capito cosa il mondo è rovina abbiamo perso ragazzi ha vinto lui a posto non possiamo solo andare non è vero gli spacchiamo il culice ok la faccia al 3 non mi manca jinx non ho jinx a me è capitata quattro volte jinx bastarda ma niente pure a me è uscito un sacco di volte ma fa culo vai un altro sgrasso per la mia collezione di sgrasso di privata due sciaco mi ha dato perchè mi ha dato due sciaco a me ha dato mille mila monete sgrasso dinx sgrasso dinx non lo voglio sciaco io perchè c'ho tre archi bugie io te ne faccio ok due serfite altre archi c'è altre palle d'arri c'hai rotto ne fa faiane allora tu servono le spade gohan mettiti qua e tu mettiti qua e tu mettiti qua e tu mettiti vabbè niente ho mai entrato qui è il mio avversario capitan trombare ciao jordan che ha speso tutto sto qua guarda niente almeno adesso ho sgrassati in al 2 sgrassati sgrassati tutti madonna che sgrassamento non è riuscita volta quella povera anima mia arius devo seguire a 7 metodo che ho ragione pure maestro darmi sarebbe da dare ok è in aggiunta a zoe altre ma come vediamo qualcos'altro altre bagniamo 3 si perchè no si diamogli pure il culo al 3 perchè tanto ormai entra in campo gohan that's how mafia work come una fetta di culo già che ci sei non mi dispiacerebbe che cosa mi serve ottiti ottiti ok io ho finito praticamente quasi la squadra quasi noi sei all'otto e mettere qualcos'altro ciao gino bravissimo gov betta mi ha appena abbattuto ciao giordan addio gino che hai tutto bene hai il 3 e dal 3 zoe al 3 poppi al 3 senti fottiti ah che soddisfazione vaffaculo me in questo momento mi servono tanti sgrasso tante hash e tanta roba tuttassima tanta roba non mi dai pg che mi servono a me voi avete tutto al 3 io sto a casa Ma no no non abbiamo nessuno al 3 Io non ho niente al 3 Io ne ho uno al 3 solo Ed è quello che mi serve Data 3 Data 3 si Oh Marco c'è un altro che fa i radio Chi è? Sta facendo Capitan Non sono io Addio Jordan è stato un piacere Morirà pure perchè sta combattendo con il ring Un ragio piccolo Pover livellato pesante God Tyranee stai morendo Tyranee no me lo segno È tutta la mia ora Come è tutta la tua ora Ma che vuol dire Ma sai che non c'è niente che mi interessa Non c'è qualcosa che mi interessa Tu non touch this Goku Non touch Goku Che cazzo è Goku Goku è l'unico Goku Ultra Stint è l'unico personaggio con i capelli bianchi Qui è Ash Quindi Ce l'ho dico È Lucian È Fioro È Leone Eh vai ho preso Goku Ultra Stint Vabbè Marco capì Però dai Chi è che lancia le KMMA Scusami Come è Ash C'è lancia una spada Vai è biondo lui Lui è Gohan Non te l'aspettavi Oddio adesso ho due Ash al 2 in campo A questo punto io mi livello Mi ha tolto però Mi ha tolto qualcosa Raga Entra in campo Gohan Ok in questo momento ragazzi mi servono 3 Ash E ho finito Ash e ce l'ho al 3 Ash al 3 e poi tanta roba Perché c'ho veramente Goku Ultra Stint A quel punto Goku Ultra Stint Caproia Sono controbet Ciao Ciao Mr. Carp Non uccidermi ti prego Non lo so Non lo faccio apposta Decide Goku Si è incazzato No Goku ti prego non uccidermi No è morto Non c'è riuscita a missare l'ulti Mi sembra di tornare alle norme Non ti ho fatto dire mica veramente A volte che la vita è una cosa scandalosa Ti senti fortunato lo spero Graves Manco per il cazzo io Tu devi sempre credere a Gohan Vedi che tutto va bene Mi mancano un paio di sciacquo E me lo faccio al 3 Spero di sopravvivere per vederlo a 3 stelle Vabbè sono 89 accampicato L'unico che vuoi affrontare di nuovo è Dark Marco dai ti prego non mori Dai infatti Marco Dai ma è possibile che tu mori così Fanno subito dai Contro Daniele ha reso dei conti Ma ciao Team Darkstar Team Darkstar Non uccidermi aiuto No Meno male non ha preso l'asce Attenzione Katie è ancora viva Si arrabbia Super Saiyan blu dentro di lei Madonna la distruzione Mi volete vedere ubriaca stasera Il team dei Super Saiyan vince sempre Daniele Dimmi Quando è che giochiamo Non so Quando il mondo Il mondo era Le porto Daniele Chi è con me Wow tutti i carri portiamo Daniele Vai vai Tanto non succede Anche se ti reportiamo Non succede niente Quindi va bene Oh oggetto 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 Oh una spada Bella mia spada Tanto un oggetto mi ha dato A me due A me due Ma Siete nella merda Piuttosto Siete nella merda Se trovo un asce Siete nella Siete nella cacchina Bastarda Non sto uscendo Buttando Bastarda Male education Vabbè va Gohan ti regalo questo Per il momento Devo aspettare Devo essere calmo E devo aspettare Che esca l'ultima asce A me serve un Graves Vuoi comprare una meridiana Gohan A me serve un Nordicizer Chi è il mio avversario Marco Marco no Marco no Che studio voglio vedere Voglio vedere Marco Voglio vedere Cosa succede contro Marco Marco dai Ma perché contro di me Addio Marco Vediamo la sconfitta di Marco No dai Ce la sta facendo Ma che cazzo dici Ce la sta facendo Lei è scioltato Ce la sta facendo L'ho scioltato Sono venuto Eppure il preotore La bimba è morto Penso di aver fatto Il peggior team Esistente Nella storia Eppure Io veramente sono durata Tantissimo Sto viaggio Beh si è arrivata Terz'ultima Almeno si è arrivata Penultimo Marco Aspetta io devo trovarlo Devo trovarlo No nemmeno io Sono lo stesso Ho trovato Oddio Gohan Madonna Al prossimo vi faccio No Io non uso Quella nido di Nico Voglio vedere Poi in che punto Posso diventare forte Sono contro il fantasma di Daru No Ma addirittura Andrea mamma mia Porca è il prossimo a morire Ma contro Dario Stavo Ma madonna mia Ma fa schifissimo Quella Poppy Madonna Sei un odio Ma sei Secondo Stardo Bastardo Troverò il modo Di ucciderti Lo troverò Vieni avanti Gohan Basta Non devo sprecare Più soldi It's time to To create My monster È un blitzcrunk È ridicolo Che non li sto trovando Non è buono È pure una jinx Visto che ce l'ho l'uno ancora E non ho neanche gli oggetti Non ha la porca Sì lui sì No Gohan A posto Ok devo fare questi personaggi al 3 E poi Dario la resa dei conti Mister karma Risalve Porca troia Perché tu c'hai Misfortune Misfortune Stiamo scherzando Ma vai a fan Che c***o Ma tu c'hai un Ragazzi ma che stia dicendo Ma che stiamo dicendo Cosa Ma si Non dici per La cosa Che cosa Stronzo La cacca rosa Dai La cacca rosa Partato Vabbè pulito Dai è andata bene pure a me Dai Va bene Quando dice perfetto Quello vuol dire Che sta a comando qualcosa Per il momento Dammene uno Dammene Madonna Guarda Ma non me li da Non me li da Cioè mi ha dato 3D Non la trovo Non la trovo Anche però non mi hanno usato Mi manca Mi manca soltanto un Ragan adesso Adesso un Ragan E mi manca un Ragan E un Celestiale qualunque Un Ragan e un Celestiale qualunque Mi sa Bianco tu sei Deci personaggi in campo Andrei ma vai a fanculo Andrei Vai a fanculo Arrabbi di Scienzo Sizza Bravissimo Scienzo Sizza Scienzo Sizza Ma perché quella ce fa schifo Perché Vai Goku vai Madonna Eh vabbè Con 10 PG Ti ho sconfitto Con 10 PG Un cazzo di Celestiale mi sembra A me nemmeno uno Uno Amica Sta perdendo Con 10 PG In capo Quello Eeeh 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 Non esce sto cazzo Di A me non mi esce Né un Graves Né un Blitz No devo trovarlo No devo trovarlo Mi interessa Uno qualunque Un c'è Un pro Edi quando c'è Quando Xinsao serviva Non esce Non esce Porca buttana Mi serve Xinsao o Lulu Ci sta anche una Xinsao Non dico neanche troppo Ciao Daniele Vabbè ho perso Ciao Ma con Così proprio No hai perso Senza speranza Contro Domenico Boom Vabbè ha preso solo sona Dai Boom Vai Goku Ultraistinto Vai Non mi ha dato negli oggetti Non mi ha dato i personaggi Non mi ha dato un cazzo Sto distrutto veramente Non pensavo Mamma mia Non mi ha dato un cazzo Sto giro Protettore Eh beh è buono Protettore Perché a te piace il cazzo Vabbè dai Ci sentiamo Ci sentiamo un'altra volta Io vado a fare Ciao Dan Un cestiale Ciao Ci sentiamo su whatsapp Noi Bye bye Ciao Ciao Mi posso taglielo a sgrassare In quella roba Si Mi sembra giusto Daniele Hai visto Ma cos'è Xerath Perché Lo compro perché Voglio vedere se esce Non mi riesce Non mi riesce Vieni va A sgrassati Ha sgrassati tutti va Riuscivamo In realtà potrei prendere Un altro maestro Da armi Io ancora 63 HP Per il momento In realtà Xerath Non è una brutta idea Sai Ci faccio un pensiero Da vieni Da noi Vola Sgrassati Sgrassati tutti No L'ha schillato Non ce la faccio Non ce la faccio È immortale Quel cazzo di cosa Bastardo No Te lo troverò Lo troverò Tranquillo Lo troverò E quando capirò Sarà La tua fine La tua fine Il cazzo Devo compare Ma semmai Ci sono io e te Ma che tristezza 14 vittorie Compare Ok Ok Bastardo Bastardo Dai Dammi la quindicesima Di vittoria Eh vabbè In aria Così Ah ah Attenzione Ancora non hai detto niente Vai Un altro ulti Devi lanciare Buttana Madonna Vai Lanciare in aria Kate vai Un'altra ulti Un'altra ulti Un'altra ulti Vai che sei al tre Che fai i buchi Madonna Un'altra ulti di Kate Non è possibile E ti spacco tutto La quindicesima Dov'è la quindicesima Scusami La quindicesima Aspetta Non sento Non sento Aspetta Ma non sento Scusami Non se Dov'è la quindicesima Scusami La quindicesima Come Tranquillo Ma non sento però Ma non sento Rimango con 63 HP Ma non sento però Dov'è la quindicesima Non sento Scusi Guarda Mi l'ha cambiata Poppili Addio Che piccolino E vabbè Dov'è la quindicesima Va bene Aspetta Multa scassa Ok Ma quanto Quanto cazzo Me l'ha impugnata Se poppy non vola Quanto cazzo Madonna Sì sì Vediamo 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 Questa combattina Madonna Ancora Ancora è tutto da vedere È stato bellissimo Vole lui Triple K Merda Merda no ancora peggio dai poppy spagassati tutti perchè andare così? ancora non hai detto? ma mi sa che dice la stessa cosa se mi focus sempre kate si ma nonna come gliela tira però come? non sento tranquillo non sento però scusami tranquillo parla parla non sento non ho altro da fare ma perfetto buono buono come il pane me ne manca uno shen e uno xinzawa uno shen e uno xinzawa guarda questo dentro vivo ora ho fatto sta prova vediamo un po' no god con castellin libero è perchè ho spostato castellin qualcun altro me lo vorrei ammazzare per favore ha spostato castellin per questo io ti prego me ne ammazzi qualcuno ok adesso posso ammazzartene qualcuno ah ok grazie sei gentissimo forse anche più di uno lo dai il protettore a cagli infatti sai quello che succede ora faccio protettore praticamente a 4 è 6 a 4 ah giusto ragione cazzo posso togliere xinzawa non posso togliere xinzawa non so saprei finché poterlo farlo a 6 sarebbe stato molto bello invece sai qual è l'altro protettore nico mi sarebbe il 9 però non ce la faccio è andato che rinno veramente eh si perchè glielo dovevo dare a shen non c'era il castellin del protettore tutti quelli che sono davanti sono i protettori ah cosa che... no è che il skill una volta sola cioè non so se vale per sempre nooo guarda che ho trovato eeeh peccato lo trovo da ora eh ma guarda non posso trovarlo a me mancherebbe uno shen e ho trovato ora cosa se lo trovo prima era meglio non voglio skillare scassa di no e devo capire come ammazzarlo questa volta non lo so sai io ce la metterei tipo tanto non cambia niente quindi a meno che non lo faccia al 2 oh che... una buona buona come il pane ok dai vabbè dai non la farò mai altre lei menchia una ve ne trovassi una o uno di lui tanta roba sarebbe ma hai cambiato le messa li ho capito ma hai cambiato le messa li ho capito però l'hai fatto volare così infatti non ho capito cosa hai fatto ma che c***o non ho capito perchè ha fatto sta cosa infatti pensavo che ci arrivassi ma che c***o questo è un colpo di uno così ma forse vince però eh ho detto forse ancora c'è tf che tutti stanno boxando poppy e non tf ah no c'è c***o c'è kate non l'ho dimenticato però potrebbe ancora vincere perchè no... vediamo e invece no ma che c***o era un amico di arrice con la porcheria ma che c***o era vabbè 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 i sogni e le speranze proprio avrei fatto kate in 3 avrei fatto dai ma che significa vabbè vabbè kate in 3 è stato bellissimo è stata una delle cose più belle che ho mai visto che c***o significa vabbè pure se perdo comunque un raggio unico pure se perdo comunque ho gotuto tanto ho gotuto tanto ti ho fatto cadere dal tuo piedistallo era una c***o di mitragliatrice ti ho fatto cadere ti ho fatto cadere dal tuo piedistallo è più vicino se non c'è nessuno ma dai io pensavo che fosse nella linea quel personaggio di merda vabbè è davvero al posto della mano BOOM che buco di buco questo cristiano aspetta non sento cos'è chi è che vince non sento scusami non sento perché mi è sfondato non sento però best di effetti eva non sento però Dario come è che vinceva 60 hp chi hai vinto tu sei bravo no 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 no